Ci sono tre gradini, signora Solville. Oh, buon Dio, che spettacolo! Oh, signor Turner, sono davvero sopraffatta. Fate ciò che volete, guardate ciò che volete. Oh, mio Dio, ma sono da togliere il fiato. Il mio defunto padre li avrebbe apprezzati tantissimo. Uomo di mare, se non erro. Sì, infatti lui era viceammiraglio. Andiamo alla battaglia di Trafalgar qui. Vostro padre era lì? No, lui era Camperdown. Ah, l'ammiraglia di Lord Nelson, la Victory. Sì, vedo. È un bozzetto per il dipinto, commissionato dal re. Dite sul serio? Due anni per realizzarlo, e non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto? No, troppo bello per lui. Due anni? Io impiego al massimo mezz'ora per dipingere un quadro. Siete anche artista, signora Somerville? Oh, non credo che si possa usare un termine come quello in presenza del signor Turner. Non lasciatevi ingannare, la signora Somerville dipinge ottimi acquarelli. Oh, me lo singate. Che epica scena di tempesta. Un masso che distrugge una casa in Svizzera. Donne a calè e in cerca di esche sulla spiaggia. Ah, non mi sembra granché. No, dite. Mio Dio, cosa avete lì? Oh, è anni parecchia attraversare Alpi. Riuscite a vedere l'elefante? Un elefante? Sì, è lì, da qualche parte. Mi prendete in giro, signor Turner? Non mi permetterei mai, signora. Riuscite a trovarlo? Beh, no, non lo trovo. Eccolo qua! La ceglia preferita di papà. Sì. Oh, ma che scena terrificante. Gli elementi schiacciano gli elefanti. La protervia.